1178 sono gli iscritti all'Accademia di Belle Arti di Macerata, un istituto sempre in crescita che ogni anno si rinnova dal nuovo corso di fotografia alla rivisitazione e aggiornamento dei corsi di arte del fumetto, ai tre corsi di design, graphic, fashion e light. Energia creativa, la campagna di comunicazione dell'Accademia, arriva al quinto anno, ma stavolta con un punto di svolta rispetto al passato. Sì, un cambio di direzione, abbiamo pensato di progettare in uno spazio che fosse una texture con degli elementi importanti come le mani, siamo partiti da una lettura appunto filosofica dove c'era questo trattato delle mani e da quello poi abbiamo attraversato un po' qua e là degli artisti che hanno lavorato molto con le mani, anche De Chirico appunto abbiamo messo in discussione, abbiamo visto delle cose, per poi arrivare a un nostro prodotto e quindi abbiamo fatto queste foto alle mani che stanno spingendo, quindi le mani non utilizzate perché debbono essere il mezzo per cui si tiene un pennello piuttosto che una matita, sarebbe stato anche piuttosto banale. Le mani come comunicazione, come gestualità, noi parliamo con le mani, noi trasmettiamo le emozioni e anche i nostri dolori con la mimica delle mani. E dunque con questo concetto abbiamo voluto evidenziare questo che è la nostra energia, l'energia che attraverso le mani comunichiamo appunto all'esterno. Il lavoro da caratteristica dell'Accademia svolto internamente con una spiccata interdisciplinarità di materie e collaborazioni è stato coordinato dai docenti Matteo Catani ed Emanuele Baio.